Migliorare la sicurezza stradale attraverso l'uso della realtà virtuale, presentato nello spazio Talent Garden del campus universitario, il progetto Secure Road 360, frutto della collaborazione tra Ina e il Puglia e il Politecnico di Bari, il cui obiettivo è quello di fare prevenzione soprattutto tra i neopatentati che a causa della loro scarsa esperienza alla guida e dei loro comportamenti imprudenti rischiano di essere coinvolti in incidenti stradali. L'iniziativa, che ha coinvolto nella fase sperimentale studenti delle scuole di secondo grado del capoluogo, ha consentito di studiare l'efficacia delle nuove tecnologie come metodo educativo per contrastare i rischi alla guida, strumenti innovativi per sensibilizzare i giovani guidatori sui rischi, utilizzando visori stereoscopici. I partecipanti sono immersi in scenari realistici che riproducono situazioni di guida ad alto rischio, indossando visori per la realtà aumentata.